Tra i fiori all'occhiello dell'economia italiana spicca certamente la moda. Il settore tessile del bel paese ha saputo differenziarsi nel corso dei decenni, puntando sulla qualità e sulla ricercatezza. Caratteristiche uniche nel panorama mondiale, alle quali si aggiungono flessibilità, competenza e capacità di innovazione. Ma questi indiscutibili punti di forza rischiano di essere calpestati e distrutti dal continuo aumento dei costi, dalle materie prime all'energia. Lo sa bene Mario Montonati della storica tintoria Giovanni Clerici di Gallarate, da generazioni eccellenza tessile lombarda. Il caro energia mette a rischio la nostra sopravvivenza, dice i nostri microfoni. I numeri alla mano è facile credergli. La bolletta del metano del solo mese di gennaio è schizzata a più di 126 mila euro. Lo scorso anno, con un consumo di poco inferiore, la cifra non aveva nemmeno raggiunto i 35 mila euro. Guardi, le posso far vedere. Questo è il diagramma dei consumi della nostra azienda. Nel gennaio del 2021 abbiamo consumato 149.740 metri cubi per un costo di imponibile senza IVA 34.907. Guardiamo invece quest'anno, gennaio 2022, il consumo è leggermente aumentato, ma guardate il costo, 126 mila euro. Bollette triplicate dunque, ma anche costo delle materie prime alle stelle. La situazione è ormai insostenibile. Primo, la crisi dell'approvvigionamento nelle materie prime. Potrei fare dei casi semplicissimi, banali. I nostri prodotti chimici che utilizziamo in modo più rilevante possono essere la soda caustica, la cosigenata. Dall'inizio dell'anno 2021 ad oggi hanno visto completamente raddoppiato il loro costo. E poi la bellissima sorpresa dell'aumento dei costi energetici. La questione di quanto i costi energetici incidono sul tuo fatturato. La media di settore delle aziende di nobilitazione terzi, come la nostra, ha un'incidenza dei costi energetici tra il 12 e il 14% sul fatturato. Oggi come oggi, quel costo è diventato del 30%. Nel corso degli anni, prosegue Montonati, abbiamo fatto di tutto per migliorare la nostra efficienza energetica, raggiungendo ottimi risultati e anche questa volta sono i numeri a dimostrarlo. I grandi investimenti che la nostra azienda ha sopportato nel corso di questi anni hanno fatto sì che un consumo di 2.700.000 kWh circa del 98 corrisponda, lasciando perdere anni piuttosto tristi come congiuntura, ma arrivando al 2021, quindi che è stato un anno molto buono, a 1.800.000, quindi risparmiando 700, 800, quasi 900.000 euro, 900.000 kWh. Ma a cosa è servito? Conclude Montonati. I nostri sforzi sono stati vanificati da questo aumento dei costi che rischia di mettere in crisi la nostra azienda, l'intero settore e tutto il paese. Gli investimenti hanno dato i loro frutti, hanno abbassato i consumi di energia elettrica, ma se mi raddoppiano o peggio, triplicano il costo della materia prima, viene proprio un po' di magone perché si pensa che si possono avere quasi vanificato completamente gli investimenti stessi.